La prima stagione degli Anelli del Potere costa più di 5 milioni di abbonamenti annuali ad Amazon Prime. Su Prime sono usciti i primi episodi degli Anelli del Potere, la serie fantasy basata sui romanzi di Tolkien. Nelle prime 24 ore c'è stato il botto. 25 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno visto i primi due episodi e ovviamente internet è esploso tra recensioni, commenti e mene. Ok, tutto fantastico, ma quanto è costato? Solo per avere i diritti sul franchise Amazon ha sborsato 250 milioni di dollari mentre i costi di produzione per gli 8 episodi, tutti girati in Nuova Zelanda ovviamente, ammontano a circa 465 milioni di dollari, cioè 58 milioni di episodi. In totale 715 milioni di dollari. Ecco, secondo il Wall Street Journal sarebbe più o meno la stessa cifra di oltre 5 milioni di abbonamenti Prime annuali in America dove il servizio costa 139 dollari l'anno. Sicuramente sono un sacco di soldi, ma se vogliamo metterla in altri termini è a malapena lo 0,15% dei ricavi netti di Amazon nel 2021.